Prova statica TM450 2015 Il ruggito del reone Allora Piratone, prime impressioni sul nuovo TM-? Prima impressione è che questi 2 km di asfaltu l'abbiamo fatto qui davanti in questa dispettina in questa dispettina veramente perché io 450 TM ce ne ho avuti ben allora 1, 2, 3 3 TM450 ma questa fa veramente paura questa fa veramente paura questa caro Remes ti fa ricrescere i capelli anche a te ma guarda è impressionante mamma mia che bestia ragazzi Prima impressione bovissitivissime la prima impressione che te devo dire è che qui sarà bisognerà andare in palestra buttare via la panza e sarà dura credo che sarà dura quindi TM tutta la vita TM tutta la vita quello sempre forza TM è più forte in assoluto e basta non ce n'è per nessuno